Musica Esaurito l'influsso del transito dell'ennesima saccatura sull'Europa settentrionale, calambito anche il nostro alco alpino, sul bacino del Mediterraneo la pressione è in graduale aumento. In Toscana mercoledì 19 giugno cielo sereno, venti deboli, mari calmi o poco mossi e temperature in aumento soprattutto nei valori massimi. A Lucca cielo sereno su tutta la piana e anche sulle colline, temperatura minima 15, massima 31 gradi. A Castelnuovo zone montane minima 13, massima 29, a Viareggio e sul litorale minima 17, massima 26 gradi. Giovedì ancora cielo sereno con temperature sostanzialmente stabili.